Tra settembre e ottobre all'Ustberica partiranno i multitest, serviranno per diagnosticare i casi di influenza o di covid. Intanto il presidente Zai annuncia da metà luglio pronti per la fase 4. Da oggi anche i vicentini possono scaricare l'app Immuni, si tratta di uno strumento che avverte gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio. Da oggi è possibile fare richiesta per il bonus affitti, ad usufruirne potranno essere le famiglie con reddito fino a 50.000 euro che dimostrino di aver dimezzato le entrate a causa del covid e da domani si può rinviare il pagamento dell'Imu. Insediate anche in città e provincia le commissioni d'esame per la maturità, professori al lavoro per un esame mai visto. Le indagini dopo l'attentato nella sede del sindacato di Viale Crispi, effettuata una perquisizione, convocato un comitato ordine e sicurezza in vista della manifestazione di giovedì. Un ragazzo di 25 anni bastonato e rapinato in pieno centro, protagonista dell'aggressione tra individui che si sono fatti consegnare dal giovane il suo smartphone. Il Vicenza ha festeggiato al menti la riconquistata serie B, ma quasi l'80% dei tifosi in un sondaggio di TVA crede sia possibile subito la serie A. Lo sai che con gli incentivi del credito d'imposta risparmi fino al 40% sul tuo nuovo acquisto? Inoltre, permutando un usato con meno di 5.000 ore, realizzi l'intero importo del suo valore. Non solo, con la legge Sabatini avrai un finanziamento in 5 anni e un ulteriore contributo del 10% sul valore del tuo acquisto. Sono Alberto Bassan e vi aspetto nelle nostre sedi per una consulenza gratuita. Siamo in prima linea per garantirvi i servizi essenziali e affiancare le famiglie e le imprese in difficoltà. Ci trovate telefonicamente e su appuntamento. Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola. Insieme ce la faremo. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione dei nostri telegiornali. Allora, è quasi estate ma la Regione sta pensando già all'autunno, a quella che il Presidente Zaia definisce, quella che potrebbe essere la fase 4. La Regione si dice pronta a intervenire con l'artiglieria pesante in caso di ritorno del virus. Intanto, tra settembre e ottobre, l'USBerica è pronta con i multitest. Allora, partiamo da qui questa sera. Erano appena 170 i tamponi anti-Covid eseguiti il primo marzo 2020, un numero cresciuto esponenzialmente, che il 12 giugno ha sforato il tetto dei 55.580 test. I test ci permettono di evidenziare prontamente gli eventuali casi positivi e successivamente fare l'indagine epidemiologica proprio per ci scorscrivere gli eventuali focolai che dovessero presentarsi. Tra i 500 e i 1000 tamponi al giorno che hanno permesso di individuare 1314 positivi, l'83% dei quali risultano negativizzati. Negli ultimi giorni solo tre i nuovi casi. 13.000 i test sierologici effettuati fino ad oggi nel Vicentino, soprattutto sul personale sanitario e su coloro che sono ospiti o lavorano nelle nostre case di riposo. Un tasso di infezione basso che offre il tempo necessario per approntare il piano di intervento sanitario relativo alla fase 4, quella della reinfezione e della convivenza tra coronavirus e virus influenzale. Se le terapie intensive ora sanno come comportarsi, la psicosi della popolazione andrà domata e ancor più sarà necessario avere personale sanitario formato e macchinari pronti alla diagnostica differenziata. I test multipli sono una nuova sfida perché voi avrete a che fare con una popolazione che avrà un quadro respiratorio da settembre in poi in cui bisogna escludere il covid dal resto del virus respiratorio, influenza, parainfluenza e così via, virus respiratorio sensiziale. Per fare questo bisogna assolutamente attivare dei test multipli che però abbiano un costo sostenibile e che permettono in una fase sola, cioè su un tampone nasofarino, di differenziare il covid rispetto agli altri. Essere pronti ad una reinfezione autunnale è il nuovo traguardo della medicina che prevede comunque un grande sforzo in termini economici e di formazione del personale sanitario. Pensate che sia una fase comunque complicata, per questo il piano dovrà essere scritto con molta attenzione. Dovremmo comunque schierare con l'artiglieria pesante e qui ci dà una mano alla diagnostica ad esempio, perché dovremmo subito attuare la discriminante tra i covid-19 e quelli non covid-19. Vaccino anti-influenzale, distanziamento sociale e aiuto della tecnologia potrebbero quindi essere tre ingredienti fondamentali per sconfiggere il covid-19. E da oggi è scaricabile anche nel Vicentino l'app Immuni. I medici dicono che è una opportunità e invece tra i Vicentini ci sono opinioni contrastanti. Tutti pazzi per Immuni. L'app è da oggi scaricabile da tutti gli italiani. Immuni aiuta a notificare agli utenti il possibile contatto con persone positive al covid e sta ricevendo il plauso della maggior parte dei Vicentini che la giudicano uno strumento valido per tenere sotto controllo l'infezione. Già fatto da 15 giorni. Quindi lo ritiene uno strumento valido? Assolutamente sì. Non ha paura di privacy violata? No, no, ho solo paura del covid. Ritengo sia utile e poi insomma è un modo anche un po' più innovativo per capire e gestire la cosa. Sì, assolutamente sì. Siamo infermieri quindi perché no? Tutto può essere utile. Ormai si fa tutto telematicamente quindi sicuramente. Disponibile negli store digitali dal primo giugno l'app è già stata scaricata da 2 milioni e 200 mila italiani. Il Veneto non faceva parte delle quattro regioni pilota che avevano avuto modo di testarle in anteprima già dieci giorni fa. Nonostante questo il mondo della medicina afferente all'Ulseberica 8 l'ha accolta con positività giudicandola un metodo di contact tracing efficace per creare un'ulteriore cintura di sicurezza attorno alla popolazione sana. L'applicazione così come è stata concepita ha proprio la finalità di aiutare a identificare i contatti di case accertati. Se questo succede poi c'è l'opportunità di mettere in quarantena chi è stato entrato in contatto o di fare i tamponi. I primi risultati sono arrivati dalla Liguria dove durante il test si è verificato lo sblocco di tre codici dell'app su altrettanti soggetti trovati positivi. Per avere i risultati relativi al nostro territorio bisognerà attendere qualche tempo ma come è successo in Corea l'utilizzo del digitale per gestire l'emergenza ha aiutato molto. Qualche scettico però permane. Non sia uno strumento valido, penso sia più valido un discorso di test o di tamponi piuttosto che questa app. E voltiamo pagina perché è corsa al bonus affitti. C'è un boom di richieste per appunto accedere a questo fondo regionale per gli affitti. Domande da oggi al 5 luglio per via telematica. Già corsa al bonus, 400 euro sono un contributo importante perché in affitto è un reddito familiare sotto i 50 mila euro. E' corsa al bonus affitto. Il 15 giugno era la prima data possibile per l'invio della domanda ma nei patronati è già pioggia di richieste. La domanda va presentata esclusivamente via web e direttamente alla regione del Veneto. Noi non abbiamo ancora tra l'altro scritto niente sui siti nostri per fare pubblicità al servizio che naturalmente offriamo ai cittadini. E già arrivano telefonate nelle serie sindacali. 400 euro una tantuma per nucleo familiare che sia residente nel territorio regionale, che vive in affitto e che negli ultimi tre mesi abbia registrato una riduzione delle entrate pari o superiori al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E il cui reddito non superi i 50 mila euro annui e in conto non vi siano più di 20 mila euro. Il contributo è a termine nel senso che ci sarà una graduatoria. Il fondo Covid ha una dote finanziaria di un milione e mezzo di euro e i 400 euro verranno accreditati direttamente sul conto corrente in base alla graduatoria e fino a esaurimento dei fondi. Domani è prevista la prima scadenza dell'Imu ma molti comuni hanno deciso di posticipare il pagamento. Allora vediamo una mappa provinciale delle nuove scadenze. È arrivato il giorno dell'Imu o forse no. Il 16 giugno scade l'acconto della nuova tassa che da quest'anno accorpa anche la Tasi ma in molti comuni non si dovrà pagare nulla perché si può posticipare il pagamento. Uno sforzo fatto dalle amministrazioni comunali in un momento di difficoltà economica per imprese e famiglie provate dal lungo lockdown. Il comune di Vicenza prima in Italia permette alle famiglie di spostare il pagamento dell'Imu e della Tasi per l'acconto 2020 differendolo entro dicembre 2020. Il comune di Bassano si è spinto ancora un altro mese avanti scadenza della prima rata posticipabile al 16 ottobre. Sappiamo quanto può essere pesante il carico fiscale. Proprio per questo abbiamo deciso di spostare la scadenza a settembre sperando appunto che in questi mesi la situazione anche delle attività economiche, la situazione occupazionale migliore. Schio, Tiene, Dueville e Caldogno hanno spostato la scadenza al 31 luglio, l'Onigo al 20 luglio. In ogni caso basta verificare sul sito del proprio comune di residenza. Metà settembre anche per Valdagno. La possibilità di pagare entro il 16 settembre senza sanzioni e interessi con una semplice dichiarazione. Questo vale per tutti gli immobili a parte gli immobili categoria D cui getto da carico dello Stato. Esinzione totale infine dell'Imu per la prima rata per gli alberghi. Un'agevolazione prevista dal decreto rilancio tra le misure a favore del settore del turismo. E adesso parliamo di scuola perché mercoledì inizia la maturità e oggi si sono insediate le commissioni. La maturità ai tempi del Covid ha il profumo del gel igienizzante, il suono del termoscanner e il colore dei corridoi di sicurezza delineati in ogni scuola. Vicenza non fa eccezione. Come da disposizioni ministeriali dopo webinar e didattica a distanza ora è il tempo dell'incontro personale tra coloro che a partire da mercoledì esamineranno centinaia di studenti. I loro ragazzi, quelli che a differenza di qualsiasi altro anno non hanno potuto seguire in classe nel delicato percorso di avvicinamento al traguardo del diploma, sono ancora in attesa. Poche ore ancora e poi, anche per loro, si apriranno per l'ultima volta le porte delle scuole. Il candidato dovrà arrivare un quarto d'ora prima e non oltre, non verrà altrimenti ammesso, viene bloccato qui al banco di triage fino a un quarto d'ora prima del suo turno. Poi salirà con al massimo un accompagnatore. Le stanze quindi sono preparate per nove persone, sette presidenti e sei commissari e due soggetti, l'esaminando e il suo accompagnatore. Al termine dell'esame il ragazzo è invitato ad uscire dalla scuola, l'aula verrà sanificata per dieci minuti circa e via via si va avanti in questo passo. Quattro, massimo cinque candidati al giorno. Le commissioni saranno formate da sei professori interni più il presidente esterno. Fondamentali risulteranno i supporti digitali perché i libri non saranno presenti in aula e le prove scritte saranno assorbite da un unico approfondito colloquio orale. Ma questa è un'altra storia. Ora l'attenzione è centrata sulle prove tecniche di avvicinamento alla prima sessione d'esame ai tempi del Covid-19. Non è stato facile per i professori, non è stato facile per gli studenti che veramente hanno messo in gioco tutte le loro capacità sia professionali ma anche umane. E adesso veniamo alla cronaca e torniamo sull'attentato nella sede di Viale Crispi. La Digos della Questura ha eseguito delle perquisizioni, una di queste a carico di una persona che risiede vicino al centro Caracol. Trovata una pistola scacciacana, intanto il prefetto ha convicato un comitato ordine e sicurezza in vista della manifestazione di giovedì prossimo. Potrebbe esserci una pista per dare un nome e un volto a chi ha bruciato lo striscione antifascista esposto al centro Caracol di Viale Crispi, lasciando sul posto una bomboletta incendiaria con la scritta Boia Chi Molla. Nella notte gli uomini della Digos della Questura hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di una persona residente nella zona, che sarebbe stato visto esibire una pistola proprio all'indirizzo di alcuni militanti del bocciodromo. La perquisizione ha permesso di trovare materiale di chiara impronta ideologica e una pistola. Si tratta comunque di una scacciacani pur fornita di fondina. L'uomo in questione e i rappresentanti del bocciodromo avrebbero avuto più volte occasione di scontrarsi, almeno verbalmente, e non è detto che ora le indagini sull'attentato incendiario non si possano focalizzare. Nel frattempo è stato depositato in Questura il preavviso, con il quale il bocciodromo chiede di poter manifestare giovedì pomeriggio con un corteo che parta da Piazza Castello per arrivare in Piazza dei Signori. Con questo corteo noi vogliamo andare sotto il comune di Vicenza a pretendere che questa amministrazione torni indietro, torni sui suoi passi. Saremo in tanti, dicono, e sgranare la partecipazione in un corteo è più sicuro che rimanere tutti fermi e ammassati. In realtà le norme del DPCM non consentono manifestazioni in movimento e su questo il prefetto ha già convocato per mercoledì mattina un comitato per l'ordine e la sicurezza. Il tentativo è quello di mediare, di fare in modo che la tensione provocata dal voto sulla clausola antifascista si plachi prima di arrivare allo scontro di Piazza. Adesso andiamo in Tribunale, Tribunale che ha ripreso la sua attività a pieno regime e ha presentato l'app che prenota Cancellerie e Uffici. Il Tribunale in un click, il processo telematico, le cause discusse in videoconferenza, gli appuntamenti presi attraverso il sito web e da oggi anche attraverso un'app scaricabile sul proprio smartphone. L'emergenza Covid ha implementato e dato vigore all'attività giudiziaria da remoto. È una modalità organizzativa che stiamo pensando di utilizzare anche per il futuro. I risultati per il Presidente sono ottimi, così come per la Procura. Tra l'11 e il 29 maggio circa un migliaio di accessi a Tribunale e UNEP, altri 300 agli uffici della Procura. Numeri sovrapponibili agli ingressi di due settimane di gennaio in pre-emergenza. Con l'unica ma macroscopica differenza che il Palazzo di Giustizia, pur si attivo, oggi è vuoto. Questo sistema potremmo anche chiamarlo come un elimina code per permettere alla Cancelleria e ai magistrati poi di accorciare i tempi di lavoro ma soprattutto evita gli assembramenti. Ritiene che il Tribunale quindi funzioni meglio senza gli avvocati? No, questo è il Tribunale, non può funzionare senza avvocati. Si utilizzano questi sistemi nel momento in cui aiutano a semplificare il lavoro di tutti ma non certamente per sostituire l'attività di difesa dell'avvocato sia nel settore civile che nel settore penale. Bene la digitalizzazione ma la vita processuale deve tornare a pulsare, le udienze vanno fatte in presenza. E restiamo a Vicenza perché tra oggi e domani è prevista la sostituzione delle fioriere sui ponti e le balaustre della città ma ci sono anche altri elementi che avrebbero bisogno di molto decoro. Se ne vanno i fiori da Piazza Biade e da tutti i ponti e le balaustre della città pronti però a ritornare domani più belli e in salute. AIM, AMCPS ha ritirato tutte le fioriere, un centinaio e provvederà a riposizionarle con la messa a dimora delle nuove piante. Avranno varie essenze che possono essere della sempreverde piuttosto che qualche fiore e andremo a distribuirle su tutte quante le zone della città quindi 10 ponti e alcune balaustre come quella di Piazza Biade dove andremo a ripristinare tutta la fioritura. Intervento da 20.000 euro che quest'anno è slittato da inizio aprile a metà giugno per i motivi che conosciamo. Operazione Green, chiusa in tempi record, dicono Gerardi e l'amministratore unico di MCPS Carlo Rigon. Green come il colore, fin troppo vivace delle fioriere che però non cambierà. Di restyling avrebbero un gran bisogno anche i cartelli e segnali stradali della zona Pomari a Vicenza Ovest. Ecco una carrellata delle situazioni che si possono osservare tra strada delle Cattane, via Fermi, via Pieropan e Limitrofe. Segnali più orizzontali che verticali, pericolosamente inclinati sui marciapiedi totalmente scoloriti. Staranno aspettando che cadano per non doverli rimuovere, ironizza un passante. C'è da sperare che non sia così. Rieccoci, ripartiamo dai pellegrinaggi, pellegrinaggi a Lourdes, perché l'Unitassi, dopo l'azzeramento delle partenze a causa dell'emergenza pandemica, sta preparando un pellegrinaggio, ma in versione ridotta. Dal dopoguerra non era mai successo che venisse bloccato il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il Covid-19 ha stoppato i viaggi di migliaia di infermi, disabili, malati, che ogni anno percorrevano 1240 chilometri per raggiungere il santuario sui Pirenei. Ma entro il 2020 è prevista una partenza, anche se in forma ridotta. Un mini pellegrinaggio a Lourdes verso la fine dell'anno, sempre che la Francia ci lasci passare e non ci siano contagi in Italia. E nel frattempo Unital si ha vinto la streno battaglia per avere treni meno scomodi in cui ospitare malati in barella, medici alle prese con flebo e carrozzine. Sono stati rifatti completamente gli interni, quindi più confortevoli, rimessi a nuovo ed erano entrati nel circuito europeo passeggeri, quindi con tempi di percorrenza da Vicenza a Lourdes molto ridotti. Non più viaggi che duravano un giorno e una notte, ma una percorrenza tagliata di almeno sei ore. Intanto il prossimo appuntamento con Unitalsi sarà circoscritto nel Vicentino a metà settembre a Monteberico e Chiampo, due giornate attese da barelieri, medici, infermieri, sorelle di assistenza. Ma il coronavirus ha bloccato anche le giornate nazionali Unitalsi, con le piantine di olivo e l'olio per la raccolta fondi, quanto mai preziosi per far fronte alle spese e aiutare chi non può permettersi il viaggio. Le piantine di olivo e l'olio, le abbiamo tutte in sede, se qualcuno vuole venire a prendersene ben volentieri. Per premiare un campione, scegli il numero uno. Fax, dal 1966, fabbrica artigiana di coppe, medaglie e trofei. Fax, a Caldogno. E adesso andiamo a Malo, che è uno dei più grossi comuni che andrà al rinnovo quando verrà fessata finalmente la data delle elezioni o l'Election Day. Scende in campo il vice di Paola Lain, che è il primo cittadino uscente che ha deciso di non ricandidarsi. Malo è uno dei comuni più importanti che andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco. L'attuale primo cittadino, Paola Lain, si è già chiamata fuori dalla corsa. Il suo vice, Claudio Dallariva, invece, ci prova. Sì, Malo, intanto è una cosa propositiva, positiva. Non è mai una negazione, quindi la voglia di fare, la voglia di impegnarsi. E poi è una cosa concisa, ma diretta. Il nome della lista è quello di un progetto civico, spiega Dallariva. Niente partiti e, in compenso, tre linee guida. Ascolto, disponibilità e competenza. I progetti, due in primis. Si completerà il polo scolastico della Rigotti. Una viabilità ecosostenibile. E poi c'è la pedemontana, che da problema deve diventare opportunità di sviluppo per l'economia e per i residenti. Lo sapevamo da cinque anni fa, che era un boccone piuttosto pesante da digerire per l'impatto che ha nel nostro territorio. Però a questo punto manca poco all'apertura del casello. E adesso andiamo a Darzignano, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio in via Zara. I pompieri arrivati dal locale di staccamento, entrati nell'abitazione, indossati gli autoprotettori, hanno subito estinto il focolaio che ha interessato il piano cottura e la cappa aspirazione. Fumo all'interno di tutta la zona giorno. L'allarme alla sala operativa è stata data da un vicino che aveva visto uscire del fumo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Berica Carburanti, il tuo punto di riferimento e fiducia. Berica Carburanti, un pieno di qualità e convenienza. E adesso la cronaca ci porta all'Onigo, dove un ragazzo di 25 anni è stato aggredito e rapinato da una banda di tre persone. Stava passeggiando in pieno centro all'Onigo sabato sera, quando è stato aggredito da tre sconosciuti. La brutta avventura è toccata a un ragazzo di 25 anni del posto. preso a bastonate in testa è costretto a consegnare il suo smartphone. Il giovane, dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale, ne avrà per una decina di giorni per un brutto trauma cranico. Dopo la denuncia, arrivata ieri mattina, i carabinieri hanno avviato indagini che si affidano principalmente alle immagini del servizio di videosorveglianza. Sull'ennesimo episodio di violenza interviene il sindaco che osserva amaramente. All'Onigo abbiamo un problema che purtroppo a noi non si vuole risolvere. Il nostro comando dei carabinieri è sotto numero, come anche altri, per carità. La questione del controllo del territorio si ripresenta periodicamente, non è di facile soluzione. In passato qualcuno aveva proposto un commissariato di polizia in area aberica, ma una soluzione sarebbe anche il rafforzamento degli organici dei carabinieri. Però l'Onigo aveva un accordo con i carabinieri, con la prefettura, con il ministero e non sono arrivati i carabinieri che ci erano stati promessi. Quindi è un appello che il sindaco fa a variati, al quale ho già scritto, che non ha avuto tempo evidentemente di rispondermi. L'Onigo ha bisogno di carabinieri per fare ciò che altrimenti non possono realizzare. L'aggressione dell'altra notte non può essere considerato un episodio isolato. E anche zone che fino a poco tempo fa potevano considerarsi tranquille, ora tanto serene. Non sono più. La verifica e la certificazione della sicurezza in ambito industriale e civile sono fondamentali per tutelare quel bene prezioso che è la vita. A tale scopo, dal 2005 un partner professionale affidabile per datori di lavoro, responsabili di impianti, amministratori condominali e amministratori pubblici è Triveneto SRL, ente autorizzato presso i ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e accreditato da Accredia. Grazie a un team giovane di alto livello e costantemente aggiornato, Triveneto SRL effettua servizi di verifiche periodiche e certificazioni su ascensori, macchine, impianti e attrezzature. Le attività ispettive che svolgiamo per l'industria sono le verifiche degli impianti di messa a terra. È un'attività obbligatoria per legge dal 1955. Le altre attività ispettive che facciamo nel mondo industriale sono le verifiche di ascensori. Un ultimo settore molto importante sono le verifiche delle altre strutture di lavoro. Le attività ispettive in ambito civile si distinguono tra cogenti e volontari. Le attività cogenti sono le verifiche degli ascensori che vengono fatte ogni due anni da parte di ingegneri e le attività di verifiche sugli impianti di messa a terra laddove, ad esempio nei condomini con portiere, figura l'amministratore di condominio come datore di lavoro. L'ambito volontario sono tutte quelle attività di verifiche ispettive che il proprietario responsabile dell'impianto o l'amministratore di condominio vuole fare per dare un'evidenza del livello di sicurezza di impianti e o attrezzature. Triveneto SRL, con sede principale a Cornuda nel Trevigiano ma presente anche a Bergamo, Trento e Trieste, effettua inoltre attività ispettive negli appalti pubblici, negli ospedali per quanto riguarda ascensori e impianti elettrici e per conto di Enel, controllando la sicurezza intorno a cabine e impianti di illuminazione pubblica. Il passaggio che dobbiamo cercare di fare è quello di creare una cultura della sicurezza che permetta finalmente di ottenere un livello accettabile che comporta poi la sicurezza da parte di tutti i cittadini e gli utenti e di affrontare mondi come quello civile e come quello industriale. E siamo allo sport, il Vicenza ha festeggiato in famiglia la promozione in Serie B però i tifosi attraverso un nostro sondaggio hanno detto che la Serie A per il Vicenza è possibile anche subito. È già alta la febbre da tifo dei tifosi dell'Ane ecco l'esito del sondaggio sulle ambizioni nel prossimo campionato di Serie B per il 79% il Vicenza può centrare subito l'obiettivo Serie A il 21% pensa che sia bene fare un passo alla volta Durante lo speciale di TVA Notizie anche il reportage della minifesta Biancorossalmenti finita con la Coppa al cielo Vicenza ha festeggiato la promozione in Serie B in famiglia società, giocatori e staff capitanati da Renzo Rosso e dal presidente del club Stefano Rosso senza il pubblico, nemmeno virtuale tramite social come doveva essere ma ci sarà modo più avanti di fare una festa vera intanto i saluti del mister Abbiamo vinto ma non possiamo festeggiare insieme a voi ma ve la dedichiamo ci sarà un momento migliore a luglio o agosto di stare insieme e festeggiare insieme però questa squadra qua è stata fantastica serietà, dedizione, lavoro e vittorie siamo in Serie B grazie anche a voi Una B gigante dall'accoppiata Padella Marotta il centrale della difesa meno battuta d'Italia e il giocatore più istrionico del gruppo Buonanotte a dedicarti questa lettera che è il simbolo della stagione la Serie B conquistata insieme a tutti voi e non vediamo l'ora di vedere l'anno prossimo questo stadio pieno per giocare la prima di Serie B ultima a voi qui c'è davvero tutto per fare bene insieme a voi possiamo davvero sognare e piacere insieme a cercare di cambiare questa lettera chi lo sa? magari con la prima dell'alfabeto sognare non costa nulla e come ha detto il presidente grazie ragazzi grazie a tutti e adesso come ha detto qualcuno di voi comincia il bello grazie e adesso ci colleghiamo con il giornale di Vicenza mercoledì inizia una maturità come non l'avete mai vista esame solo orale, distanze di sicurezza, insegnanti con la mascherina ma anche le solite ansie degli studenti le ulze del Vicentino hanno fatto il punto per quanto riguarda gli ospiti delle case di riposo la situazione post-covid sembra tornata alla quasi normalità in arrivo la figura del direttore sanitario abbiamo voluto capire come si stanno organizzando i piccoli cinema di provincia dopo lo che è la riapertura delle proiezioni e a proposito di via libera analisi anche per il settore degli alberghi che tornano a vedere i primi turisti e operatori nelle altre pagine una riflessione sul futuro commerciale del centro storico di Vicenza ma anche la brutta vicenda di una donna che per sfuggire alle angherie del marito è caduta percorandosi diverse fratture e quella nel Bassanese di Chi spiava la moglie utilizzando un'app del telefonino poi la storia di un quasi ottantenne che viaggiava su una moto di grossa cilindrata e dopo essere caduto è stato colpito da un malore fatale c'è una vera e propria banda che nel Tianese agisce a danno delle colonine dei service carburante infine per il calcio è sì al rinnovo del contratto per il centrocampista il capitano biancorosso Cinelli il giornale di Vicenza bene è tutto anche per questa edizione grazie per averci seguito buona serata arrivederci siamo in prima linea per garantirvi i servizi essenziali e affiancare le famiglie e le imprese in difficoltà ci trovate telefonicamente e su appuntamento Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola insieme ce la faremo grazie per aver guardato il nostro corso